Molfetta, sala consigliare del municipio, la Huila Puglia ha organizzato un convegno dal titolo Pesca, un settore da mettere in sicurezza. Dunque continua il grande impegno della Huila Puglia nei vari ambiti appunto del comparto di sua competenza, quello agroalimentare. Questo oggi ci si occupa di Pesca con vari relatori e ci sono rappresentanti appunto del governo, rappresentanti del sindacato, rappresentanti del settore ittico proprio per dare voce a tutti, proprio per raccogliere le varie istanze e cercare di trovare risposte. La Huila Puglia va avanti e cerca di valorizzare appunto le varie risorse agroalimentari del territorio. Beh, certamente la Pesca rispecchia proprio le doti, o se dire, naturali della nostra Puglia. Qui siamo a Molfetta, un mare splendido, meraviglioso, un lungomare, colonna, davvero bello. Beh, il tema della Pesca è certamente un argomento da cui partire. A che punto siamo? Ecco, se lei, segretario, dovesse dare un voto, no? Qual è la situazione attuale in Puglia? I vostri desiderata e soprattutto le risposte che state ricevendo, se le state ricevendo, da chi prende le decisioni. Il settore della Pesca in Puglia è un settore importante, nel senso in questi anni possiamo ben dire che la Regione in questo settore ha lavorato bene. Certo, c'è molto, molto, molto ancora da fare. Il tema del convegno di oggi, mettere in sicurezza questo settore, perché come tutti i settori in cui ci sono, all'interno delle imbarcazioni, dei lavoratori dipendenti, anche in questo settore ci sono spesso le malattie professionali, ci sono gli infortuni sul lavoro. Quindi la giornata di oggi serve anche a fare un punto della situazione per il rilancio di un settore, anche attraverso tutte quelle che sono le misure europee, nazionali, regionali, che bisogna mettere in campo per rilanciare fortemente un settore che ha necessità, che per la nostra Regione, come quello agroalimentare, è un settore strategico che bisogna essere capaci di valorizzare. E quindi l'impegno, spero, della prossima Giunta, e ormai c'è la nuova Giunta regionale, sarà quello di sforzarsi di dare un occhio attento a un settore che possiamo sfruttare in maniera importante per la nostra economia, per i lavoratori stessi. La UILA svolge un ruolo importante perché come sindacato è il tradunione, l'elemento di raccordo con la base, con gli operatori del settore. Spesso c'è sfiducia perché ci si sente abbandonati dalle istituzioni e voi dovete cercare di dare risposte e di stimolare le istituzioni in quel senso, in quella direzione, partendo appunto dalle istanze della base. Certo, questo è il ruolo per il quale il sindacato è nato e questo è il ruolo che il sindacato deve svolgere tutt'oggi. Quello dell'interesse, della difesa dei lavoratori in un settore, quello agroalimentare ma anche quello ittico, in cui c'è molta esigenza di sindacato, il sindacato può essere il motore trainante per sempre più sensibilizzare le istituzioni sulla sicurezza, sul lavoro e sul lavoro più in generale. Stefano Mantegazza, segretario nazionale della UILA. Vario e vasto l'impegno della UILA appunto nei settori di competenza dell'agroalimentare. La pesca ha un ruolo senza dubbio di rilievo, di primordine, è il caso di dire. Lei, vedendo un po' il panorama nazionale e internazionale, con riferimento alle direttive europee, con riferimento alle scelte del governo, alle scelte degli enti locali a partire dalle regioni, per finire a province, per quello che ancora contano, e i comuni, in una sola parola, lei è ottimista, pessimista o moderatamente ottimista o pessimista? Noi dobbiamo essere ottimisti per statuto, però il settore è in crisi, è una crisi pesante che ha portato molti armatori a cessare la propria attività e quindi anche con questo convegno noi chiediamo all'Europa e all'Italia, al governo, di impegnarsi in maniera del tutto diversa. Siamo tifosi delle iniziative del governo, quando promuove l'agroalimentare italiano nel mondo bisogna fare molto di più anche per la pesca, che è un settore strategico per tante marinerie. Noi oggi siamo qui a Molfetta e siamo orgogliosi di esserlo insieme a tanti pescatori e però bisogna che questo governo faccia di più in questo settore. Ecco, segretario, sicuramente vi sarete interfacciati con il governo, con i responsabili del settore, dei vari dipartimenti, quelli del dipartimento relativo alla pesca. Ecco, che impressioni avete tratto? C'è una capacità non solo di recepire ma anche di operare sulla base delle esigenze del comparto? A me sembra che il governo, anche con l'Expo, abbia puntato tutto sul l'agroalimentare e ripeto, da questo punto di vista siamo molto contenti che lo abbia fatto e orgogliosi dei risultati che le imprese insieme ai lavoratori stanno raggiungendo. Ci vuole un'attenzione maggiore delle istituzioni e a cominciare quindi da quella nazionale per quanto riguarda il settore della pesca. Adesso ci saranno dei finanziamenti europei e attraverso anche i PSR dobbiamo utilizzarli al meglio. La ringrazio. E siamo con Enrica Mammuccari, segretario nazionale della Huila Pesca. Beh, il nostro paese, l'Italia, parlando di livello nazionale ma scendendo nella nostra Puglia vive e convive con le problematiche della grande industria, di quella grande industria selvaggia che inquina ma invece la riscoperta dei nostri aspetti naturali, delle nostre ricchezze naturali, penso la pesca può essere davvero l'alternativa. Mi fa molto piacere che lei mi ponga questa domanda. Io vengo da Taranto e sappiamo qualcosa parlando di ILVA. Ecco, lei mi cita Taranto, le dico subito che Taranto è la più grande area marina per allevamento dei mitili al mondo in cui noi abbiamo circa 1300 addetti. Quindi come vede non c'è soltanto l'ILVA, Taranto, ma c'è una risorsa anche in termini di tutela, anche di opportunità dell'occupazione anche sul versante del settore pesca che potrebbe essere riscoperta non soltanto a livello nazionale ma anche da voi pugliesi. Mi fa piacere che lei mi ponga questa domanda perché noi siamo profondamente convinti che la pesca possa rappresentare una grande opportunità non solo per i territori, per le economie locali ma anche e soprattutto per il nostro paese. Un ruolo fondamentale lo ha certamente, lo hanno le scelte del governo. Ma le scelte del governo bisogna conoscere bene il settore per sapere che bisogna, è necessario e sono necessari accordi di sistema, accordi che definiscano strategie su più livelli. Dalle politiche europee alle politiche nazionali alle politiche regionali c'è bisogno di una regia e noi chiediamo che in questi accordi il ruolo del mondo della rappresentanza sia significativo perché nel passato e purtroppo anche con la nuova politica comune per la pesca abbiamo riscontrato che troppo spesso viene a bancare la dimensione sociale cioè la dimensione sociale della pesca significa l'attenzione verso i suoi protagonisti che sono i pescatori e quindi come dire si costruiscono percorsi fatti di imposizioni, di norme, di regolamenti ma non si pensa a quelli che sono veramente i bisogni dei pescatori. Segretario, altro ruolo fondamentale è quello delle regioni? Sì, assolutamente. Le regioni hanno un ruolo fondamentale perché la gestione del programma ovviamente dei fondi e delle risorse europee viene gestito a livello regionale. Vi do un dato. Nello scorso programmazione, il FEP 2007-2013, le cui risorse potevano essere spese entro il 31 dicembre 2015, ha visto una spesa complessiva soltanto del 40% delle risorse disponibili quindi le regioni non solo non hanno speso ma hanno speso anche male e troppo spesso purtroppo scollegando Poi si lamentano dei tagli del governo? Ma scollegando purtroppo anche le finalità, quelle più nobili che dovevano essere invece perseguite quindi proprio quelle di considerare il settore come un settore strategico che andava doveva non solo difendere la redditività dei pescatori ma doveva soprattutto creare occupazione in un momento in cui il turnover dal punto di vista del ricambio generazionale è assolutamente un problema perché chi vorrebbe lavorare in un settore dove ancora vige un sistema di retribuzione alla parte dove c'è il calo ovviamente delle risorse anche in mare e contemporaneamente c'è un aumento invece dei costi fissi sempre più significativo. Noi dobbiamo restituire a questo settore l'appetibilità di essere un settore invece che è in grado ancora di poter creare occupazione ma che è in grado ancora di poter offrire effettivamente un futuro anche ai giovani e anche ai figli dei pescatori. Onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato all'Agricoltura con Delega alla Pesca. Ci stiamo occupando delle problematiche appunto della pesca, il comparto, la UILA chiedono risposte al governo. La pesca c'è poco da dire, è una delle alternative alla grande industria. In che modo come governo state cercando di soddisfare le esigenze del settore? Intanto una giornata di riflessione fa sempre bene, poter incontrare gli operatori, soprattutto mettere al centro i lavoratori, mettere la sicurezza sui luoghi di lavoro. Mi pare che sia un'iniziativa molto interessante e poi fare una riflessione più generale su quello che è lo stato della pesca in Italia e quindi l'azione del governo, cosa sta portando avanti il governo in un momento molto particolare, in un momento strategico, nel momento in cui si avvia la nuova programmazione, si investe sui fondi della pesca per il 2014-2020. Non dimentichiamo che investiremo un miliardo di euro, quindi significa nuovi investimenti, sostenibilità della nostra pesca, innovazione, anche filiera, quindi valorizzazione della filiera e quindi anche una capacità di commercializzare le nostre produzioni. Avendo chiaramente un occhio di riguardo per quella che è la pesca artigianale, la pesca costiera e quella pesca che oggi mostra più difficoltà, però oggi un'attenzione particolare da parte del governo mi pare che sia da tutti assolutamente rilevata e quindi soprattutto una interlocuzione e quindi occasioni come quelle di oggi sono occasioni di confronto ma per verificare alcune questioni di carattere burocratico ma anche e soprattutto per dare una prospettiva, per poter rilanciare, per poter dare un segnale molto forte ad un mondo straordinario, ad un mondo che è in difficoltà però che ha una grande dignità e soprattutto che vuole uscire dalla strada dell'emergenza. Con il sottosegretario c'è poi il discorso relativo alle normative relative alla sicurezza del settore? Sicuramente, su questo stiamo investendo, molto lo faremo con la nuova programmazione, il tema della sicurezza sarà centrale, così come sarà centrale il tema della qualità del lavoro per i lavoratori quindi questo lo affronteremo in questa giornata di studio, in questa giornata di lavoro e quindi certamente oggi il tema del lavoro e soprattutto come poter lavorare in sicurezza per noi è obiettivo prioritario e le risorse che saranno stanziate nella nuova programmazione andranno proprio in questa direzione. Onorevole Nicodemo Oliveiro, lei è il capogruppo del PD in seno alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Elenchiamo una serie di elementi, di punti che avete affrontato in Commissione per far decollare il comparto della pesca. Beh, intanto, e lo darà bene anche oggi Enrica, nelle passate legislature la pesca era figlia di un dio minore anzi, forse non era figlia di nessuno, nessuno si occupava di pesca. Oggi noi abbiamo fatto diverse iniziative legislative, a partire dal collegato dove ci sono norme specifiche per il settore, a continuare con un progetto di legge che oggi è alla Camera per, diciamo, la definizione totale che riguarda tutti i problemi della filiera ittica sono tanti i problemi, perché questo è un settore trascurato da molto tempo l'Europa ci maltratta, lo Stato, il governo finora ha sempre messo di meno oggi invece col governo di Renzi sta mettendo risorse fresche e le regioni non riescono nemmeno a utilizzare i fondi europei ci sono oggi tutte le condizioni per rilanciare il settore e poi guardando il comparto, guardando tutta la filiera si capiscono quali sono le difficoltà ne voglio citare qualcuno, insomma, una flotta ormai vetusta un personale che è solo anziano insomma, ci sono tanti problemi che bisogna affrontare con serietà e credo oggi anche questo convegno accende un grosso faro su tutta la filiera e la politica, quella buona a prescindere anche dalle appartenze politiche deve dare una mano, deve risolvere questi problemi eccoci con Gilberto De Santis, presidente della Italwil nazionale come recita il sottotitolo del convegno pesca un settore da mettere in sicurezza a che punto siamo proprio sul piano della sicurezza? sul piano della sicurezza siamo naturalmente partendo con questa ricerca che è all'inizio di un progetto e di un percorso che ritengo fondamentale per due motivi fondamentale perché riguarda la tutela delle persone cioè delle persone che sono la ricchezza del settore della pesca i lavoratori che si imbarcano e che devono avere strutture sicure devono conoscere a fondo quali sono i strumenti per tutelare la propria salute e anche la sicurezza delle barche fondamentale molto importante che ci sia anche in questo progetto la parte datoriale e imprenditoriale che ha dimostrato lungimoranza ha dimostrato coraggio per poter affrontare insieme a noi e all'INAIL il problema della sicurezza capendo che il problema della salute non è una cosa che riguarda esclusivamente l'autore ma riguarda tutto il comparto e riguarda anche il buon fine del lavoro che fanno tutti i giorni i lavoratori che è fondamentale abbiamo qui la presenza al convegno dell'onorevole Giuseppe Castiglione sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega alla pesca beh certamente dovrà darvi se non vi ha già dato risposte certe in ambito di sicurezza noi lo abbiamo intervistato ha detto che sta facendo il possibile come rappresentante del governo qual è il vostro giudizio finora sull'attività del governo le vostre risposte le vostre istanze sono state prese in considerazione? intanto naturalmente l'onorevole Castiglione farà di tutto il possibile per venire incontro ai problemi della sicurezza ma per venire incontro in modo soddisfacente e positivo ai problemi della sicurezza deve farlo ascoltando le istanze ascoltando quali sono i veri problemi che soltanto al mondo del lavoro possono venire e dandoci tutti e mettendo a disposizione gli strumenti di concerto con l'Università del Lavoro e della Salute che sono fondamentali per fare in modo che ci sia una sicurezza reale in mare Gian Paolo Bonfiglio Presidente Nazionale di Alleanza Cooperative per la Pesca il ruolo delle cooperative è fondamentale quali risposte state ricevendo rispetto alle vostre istanze? perché poi d'altronde parliamoci chiaro le cooperative relative alla pesca sono il settore trainante sono il locomotore dello sviluppo ittico le cooperative effettivamente organizzano buona parte della pesca italiana anche perché per le particolari condizioni del lavoro della pesca è fondamentale avere delle strutture a terra che organizzano servizi e tutto quanto serve all'impresa le risposte che stiamo avendo in questa fase sono francamente poche ancora molto confuse perché siamo in un momento di transizione di evoluzione normativa sia in Italia nel passaggio dal programma triennale che sta finendo al prossimo quindi ancora non si vede la luce probabilmente siamo ormai saremo costretti a considerare una proroga tecnica di un programma triennale che peraltro è rimasto sostanzialmente sulla carta per mancanza di fondi mentre sul piano comunitario continuano a complicarsi le cose per una normativa sempre più complicata e sempre più difficile da rispettare per i processi di adeguamento a cui siamo obbligati quasi paradossalmente una Unione Europea che ci mette il bastone tra le ruote per paradosso ma sicuramente non condividiamo l'approccio della Commissione Europea su un'impostazione vecchia di una pesca da governare secondo loro con un sistema di comando e controllo solo regole stringenti l'autorità marittima che impone le regole evidentemente qualcuno a Bruxelles continua a non capire che la gestione della pesca il governo della pesca soprattutto il Mediterraneo si fa con la partecipazione e la condivisione delle regole perché il controllo in mare ha dei limiti oggettivi l'evoluzione normativa l'ultima riforma della politica comune della pesca quella che è entrata in vigore all'inizio dell'anno scorso porta tutta una serie di novità che a noi piaccia o no sono comunque regole leggi quindi noi dobbiamo semplicemente avviare e accompagnare un processo di trasformazione un nuovo modello produttivo che riesca a centrare gli obiettivi della politica comune questo non è semplice soprattutto in mancanza di una politica nazionale che ci sostenga e ci accompagna in questo processo eccoci con Antonio 30 segretario territoriale della UILA di Taranto parliamo del settore ittico parliamo della pesca nella realtà di Taranto varie le richieste degli operatori del settore il ruolo di filtro di mediazione operato dal sindacato facciamo un po' il punto della situazione ma intanto la risorsa mare è una risorsa straordinaria soprattutto per quanto riguarda la provincia di Taranto noi in diverse circostanze abbiamo chiesto alle istituzioni di porre molta attenzione a questo settore perché questo settore viene sfruttato pochissimo noi infatti a Taranto abbiamo tutta una serie di vicende che è legate alla grande industria e dei danni che ha creato a questo settore pertanto bisognerebbe invitare le istituzioni a fare qualcosa affinché si recuperi quello che si è perso faccio un esempio noi abbiamo il Mar Piccolo che oggi non può essere utilizzato per coltivare la cozza quel Mar Piccolo dovrebbe essere bonificato perché quello è un posto dove la cozza Tarantina prima veniva prodotta e sviluppata con dei risultati eccellenti adesso è stato trasferito tutto nel Mar Grande però noi invitiamo insieme alle istituzioni a creare qualcosa che si possa ritornare a coltivare nel Mar Piccolo un'altra iniziativa importante è stata fatta recentemente a Tardo che noi l'abbiamo sostenuta fortemente come sindacato è anche la coltivazione dell'ostica Tarantina noi abbiamo un prodotto che è straordinario quest'ostica che è buonissima che cresce proprio sui cusci della cozza nera pertanto noi dobbiamo incentivare grazie anche alla regione Puglia sono stati fatti finanziati questi progetti però bisogna continuare in questo senso solo così veramente potremo utilizzare un prodotto che è straordinario quello del mare un convegno questo sulla pesca in cui sono stati lanciati vari input sono stati recepiti questi input ora ovviamente dovranno essere elaborati da chi è istituzionalmente preposto e chi è istituzionalmente preposto dovrà dare risposte concrete mi è piaciuto molto l'approccio della Huila rispetto alle problematiche della pesca perché ha considerato il rispetto dell'ambiente c'è stato anche un riferimento alle parole di Papa Francesco e vedete la pesca è una delle espressioni proprio più forti più vive dell'ambiente di quanto madre natura ci dona è un ritorno alle origini un ritorno soprattutto al rispetto della natura e quanto ci vuole in una società consentitemelo troppo ma davvero troppo colonizzata dalla grande industria è tutto la Huila continuerà con altri impegni per analizzare e per affrontare le problematiche relative ai vari settori di sua competenza ossia dell'agroalimentare di un'agroalimentare di un'agroalimentare di un'agroalimentare